Siamo alla convention di 24 Finance, siamo con Loris Spighi, area manager della Toscana di 24 Finance, oggi un intervento di Rino sulle competenze, competenze che hanno portato a avere una migliore produttività pro capite della rete e del settore, voi siete stati premiati come i miglior gruppo, come miglior crescita, qual è il vostro segreto a questo punto? Il segreto è sicuramente quello delle competenze, siamo comunque una rete di professionisti affermati per cui tutti molto esperti, anche vecchi del mestiere, abbiamo sviluppato sempre competenze collegate al rapporto con le agenzie immobiliari, per cui siamo una rete di servizio ai network immobiliari, la prova poi sono stati proprio gli accordi che sono stati presentati in quest'occasione. Grazie proprio alle competenze sia del management, quindi Rino in primis, che è sempre in grado di fare accordi importanti, quindi di veicolare sulla rete questi accordi che poi vengono trasformati dai collaboratori in risultati, questo ci permette di essere sicuramente una delle reti con la più alta produttività pro capite, quindi per uomo. Oggi sono stati presentati altri accordi con ulteriori gruppi di agenzie immobiliari, di agenti immobiliari, presentazioni di accordi anche nuovi sulla cessione del quinto, tante novità quindi oggi, che vi serviranno a arrivare ancora prima, oggi avete già chiuso il vostro budget dell'anno, vi serviranno a chiusurlo ancora prima, ci vedremo agosto il prossimo anno. È tutto lavoro da fare questo, sono tutti strumenti che l'azienda ci dà per essere performanti e che noi dobbiamo essere bravi a trasformare nei risultati, ci stiamo riuscendo. Benissimo, intanto ti ringrazio e complimenti. Grazie.